Musica Benvenuti a tutti sul canale del duo Io sono Kree e oggi giocheremo a Terraria Iniziamo Jimmy 82 ore di gioco su Terraria Oh my god, non siamo neanche a metà gioco Madonna, Jimmy Mi hai fatta di strada, Jimmy, eh? Jimmy the vampire Oh my god Ah Ah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa c'è? Una luna di sangue l'ultima volta? Ah sì. Sbatti ancora? Un po' alto l'audio. Allora, pozioni siamo messi abbastanza bene, 11 e 11 a voglia. Possiamo andare a esplorare un po' adesso. Cazzo di rumore fa le cose. Depositiamo i blocchi, questi qua dorati, blocco solare che mi serve per la casa. Poi svuotiamo l'inventario e andiamo. Stendardo mondo? Che c'è sta roba? Che c'è sta roba? Che c'è sta roba? Uno zombie piccolino. Oh, è finita la luna di sangue. Ok, possiamo fare le nostre cose in pace. dentro il maiale che ho? Ok, è già vuoto. Ok, è già vuoto. Faigo. Pozioni gravità la mettiamo qui. Le torce ce le ho. Lo specchio. Le cose della pesca le teniamo da questa parte. la corda. La corda. La corda non ci serve. Però ce la portiamo dai. Può sempre essere utile. Può sempre essere utile un po' di corda. la corda. Oh, quella roba è cos'è? Ah, porta celeste. Porta celeste. Quindi era una porta, non era uno stendardo. Io l'ho messo di qua dove ci sono gli stendardi. Ma... È una porta. Ok. Bene così. Penso di avere tutto. Magari scambiamo la spada con quello. Voglio vedere anche quanti... se ho spazi vuoti per gli NPC. Sì. Allora. Sì. Ok. Ne ho una. Due. Ok. Ho due spazi vuoti. Perfetto. Quante palme. Bene. Quante palme. forse queste lampade che ho creato mi conviene levarle da qui. Tanto non penso di fare un altro boss in questa arena. Forse sì. Buo. Sullino. Tu, du, du, du! Tu, du, du, du! Questo mi serve una chiave... Argentata dorata che non ho. Sti teschi cosa facevano? Non mi ricordo Vieni E poi c'è una pozza Pensavo fosse una lanterna Continuiamo per di qua Che c'è già tutta la strada fatta E tolgono però fanno danno questi stronzi Non vorrei dire ma fanno danno Minchia ma queste le lancia lontanissimo sta spada Un po' uno sbatti sinceramente sta cosa Che le lancia lontano perché mi fa perdere tempo A meno che io non le schifo e me ne vado avanti BOOM BITCH A meno che io non li c'è me ne fanno di danno questi stronzi si può rompere che era arrivato qua probabilmente aia 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 e di là ah no ok c'è un dungeon aia aia troppa gente troppa gente che slime è questo non l'ho mai incontrato mi sa quanta gente c'è prendi una mega pozza a parte che io sono un pilla perché non ho attivato no maledizione presa ok il diavoletto poi ci muoio devo muovere se no ci muoio aia e aia 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 È una bella cesta, no? No, 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 no. Ma chi è che mi fa danno? Non riesco a capire, c'è una trappola? Ah, c'era una trappola, può essere. Vediamo di qua che c'è. Non c'è un cazzo proprio. Vediamo di qua. Guarda. Pianoforte verde da dungeon. Che roba è? Non voglio morire. C'è il manus della candela? Ah, ecco qua. Morirà vero? No. Morirà. 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 Vabbè piano piano lo esploriamo Conta mostri indica quanti mostri sono stati uccisi Questa è un'ottima Grazie per aver guardato il video. faccio qualche pozza potenziata perché ho fatto le frecce ok strano che non ho trovato neanche una cesta molto strana questa cosa a Sì. 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 Eh, quanto è cinto uscito da lì? Oddio... oh e non c'è niente ah si c'è una cesta perfetta l'avevo vista ah c'è c'è la trappola ok prendi tutto stronzo ha saltato all'ultimo ha saltato ah 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 No, ho tornato. Ho cannato il tasto. Ma come cazzo ho fatto a cannare il tasto? Mi serve un'altra pozza, se no ci muoio. Mi serve un'altra pozza, se no ci muoio. E' difficile sto dungeon, cazzo. Ai 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 ai. 20 secondi e devo sopravvivere. Uh, cuori, cuori, dammi cuori. Dammi tutto subito. Ah, i teschi ti fanno prendere vita anche. I teschi per terra, sono tipo le... Di basi. Ah, ok. Non l'avevo capito. Chest. No, ma che cazzo fai? Entra. Ok, roba. Guardiamo dopo. Quanta gente lì. Tirati. E questa? Guarda cosa fa così? No. Guarda cos'è, una cesta, eh. Con la roba... Rossa. E c'è anche una candela. Dove cazzo è sta candela? Ah, quella sotto forse. Non è arrivato qua. E questo? Che cazzo è? Un'altra parte del dungeon? Non ero mai arrivato qua. Vorrei anche prendere La cesta Se è possibile Scettro Forse lo scettro ce l'ho già E qua che cazzo c'è Questo lo prendo Non mi ricordo se l'avevo già preso o no Dammi tutto Mettiamo da parte l'oro No 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 Questa spada comunque è buona Ma non c'è niente Uh oro per me grazie Ahia tappola di merda Cosa mi avvelenato E ancora Dai son Pirlo allora Andiamo avanti Ah no di qua non si va Nessuna parte Cazzo si frizza tutto qua Ah devo andare lì in basso volendo Andiamoci Perché non si aprono più ste porte Non ho mica capito Ah no 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 n'igno E' come pensavo di cadere nel vuoto va un culo è venuto un colpo ma di qua si continuava va bene va bene attenzione a candela dove c'è questa? ok chiave ci dovrebbe essere un tasso per prendere tutto no butta dentro tutto il maiale no le chiavi no che non so se le posso usare allora oro e... una pistola una pistola fa chiave non so se è forte ma... mi piace ok là c'è il mondo no... 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 infame teschietto di merda ok ok no... 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 ma ricordata ok 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 No Mi devo Mi devo rifullare qua Devo aspettare un attimo Se non ci muoio Mi serve vita Assolutamente Lì c'è una trappola Io l'ho presa in pieno E datemi un po' di cuori Faccio Vabbè dai Abbiamo preso un botto di roba Adesso vediamo cos'è Ho aperto almeno un Sei cesta almeno Allora abbiamo trovato Frenetico pistola Che una merda 14 di danno Il mini shark fa No questo fa 7 Allora forse buono 14 6 di critico No Secondo me è un po' una merda sta cosa Poi abbiamo trovato uno yo-yo Poi luna blu Cos'è un gancio? Beh Missile magico Scaglia un missile guidato Ma che cazzo Questo lo voglio provare E poi Muramasa Danno nel corpo a corpo Critico 6% Extra velocità Proviamo anche questa La mia fa comunque Extra velocità E fa un botto di danno in più Quindi Però proviamola Perché è guidato? Ah Perché va in alto O in basso Se muovo Il cursore Oh mio dio Figata Che figata Beh è un po' inutile Penso Ok ora proviamo La muramasa Ah però è grande Rispetto alla mia È lunga Quindi Magari la rifornge La muramasa Quasi quasi Proviamo a riforniarla Vediamo Povero voltoio Tagliato in due Allora per riforgiarla Dove fa andare Da quel tizio lì A destra Lui Ok Riforniamo Questa Ok Uh Fuck yeah C'è andata di culo Più 10 facendo dimensioni Più 10 spintone Oh Adesso mi sa che è più forte Della nostra Perché essendo più grande Prende anche i nemici Diciamo un po' più lontani E ti fa prendere meno danni Penso Adesso affetta eh Ok buono Ok Lasciamo giù tutti questi bei oggetti Ma il minishark Ma il minishark Lo lascio giù Lo uso ai boss Perché non voglio Consumare le munizioni Anche questo yo-yo È forte 29 E' molto forte Però sti cazzi Lasciamolo lì Le bombe Lascio giù coltello da lancio tavolo stregato l'avevo preso io cazzo ho fatto ahhh uuh figata no cazzo sto facendo comunque il tavolo stregato o no? o forse si è lo stesso di quello che ho giù per avere più seguaci e se io ne piazzo due? quanti ne posso avere? ah no sempre due no niente allora ero dimenticato di quella cosa che potevo avere due diavoletti saldatore per ossa ma questo è buono mi sa donna cani arrabbiati no 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 iscriviti al canale E apri sta cesta invece Ma adesso lo levo sto cazzo di arpiglio qua Mi rompe solo le balle Via Gli rotto i coglioni Ok Mettiamo un'altra cesta qui Un'altra cesta Qui Ok qua non ho più niente Accumulo veloce Perfetto Proviamo sta nuova spada va Lucciola Via Volevo fare una cosa Ah si attivare Di nuovo Il tavolo Dieci minuti di bonus con due Diavoletti Che fanno veramente comodo Questa è venuta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Più lunga. Mi sa che... Per uccidere i teschi è migliore. Fa un po' meno danni però. E anche riforgiata. Mmm. Che vuole mi ha attaccato di brutto quel teschio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, c'è sta. Ah, la vuoi già aperta. Allora, andiamo su di qua, va? E questo quadro è tipo strafigo? Tra gigante? Che cazzo è? Il distruttore? Fuck. Cosa? Cosa? Il distruttore è cosa? Arriva il boss? No. Allora. Ah, no, era solo il quadro del distruttore. Ah, ok. Minchia, pensavo arrivasse il boss. Fa un culo. Venite qua, teschi di merda. Su. Su. Ho il letto lì? Lo devo prendere? No. È solo un letto. Ma che... Oh, mio Dio.